Imprevedibili impegni istituzionali connessi alla mia carica mi impediscono di presenziare. Può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Questo è quanto il presidente Nichi Vendola ha scritto in una lettera portata al giudice di pace Luigi Piro dall'avvocato della regione Nicola Colai-Anni. Si sarebbe dovuto tenere infatti nelle scorse ore l'interrogatorio del governatore in merito alla causa civile intentata dall'avvocato Massimo Todisco che rappresenta 5 malati oncologici che hanno dovuto pagare per sottoporsi ad una PET. L'esame diagnostico fondamentale infatti tra gennaio e marzo di quest'anno era assente nelle strutture sanitarie pubbliche leccesi. Il legittimo impedimento del governatore in pratica è permanente ma in compenso vendola ha ammesso che effettivamente in quel periodo a Lecce non solo nessuna struttura pubblica fosse dotata della PET ma non ci fosse neppure una struttura privata accreditata che potesse garantire questo servizio in convenzione. Nel corso dell'udienza è stata poi raccolta la testimonianza dell'attuale direttore generale dell'Asile di Lecce, Valdo Mellone che ha poi precisato che all'epoca nella provincia leccese fossero assenti strutture contrattualizzate. La contrattualizzazione in pratica è ciò che consente l'esercizio delle prestazioni ponendone i costi a carico del servizio sanitario nazionale. Il direttore ha poi sottolineato che il servizio fosse del tutto gratuito all'ospedale Perrino di Brindisi, senza nulla dire però sui tempi d'attesa previsti. La causa è conclusa, andrà in discussione il 3 febbraio, entro aprile la decisione.